I morti. Joyce. Lili, la figlia del custode, non si sentiva più le gambe per il gran correre. Non faceva in tempo ad accompagnare un invitato nello sgabuzzino dietro la dispensa a pian terreno e ad aiutarlo a togliersi il soprabito che l'asmatico campanello d'ingresso riprendeva a suonare e lei doveva galoppare lungo il corridoio spoglio per introdurre un altro ospite. Buon per lei che non doveva occuparsi anche delle signore. A quello avevano pensato la signora Kate e la signorina Julia che avevano trasformato il bagno del piano di sopra in uno spogliatoio per signore. Erano appunto là le signorine. Chiacchieravano, ridevano, si davano un grande affare e a turno comparivano in cima alle scale affacciandosi alla ringhiera per domandare a Lili chi fosse venuto. Era sempre un grande evento il ballo annuale delle signorine Morkan. Vi partecipavano tutte le loro conoscenze, parenti, vecchi amici di famiglia, le coriste di Julia, tutte le scolare di Kate in età di parteciparvi e perfino qualche allieva di Mary Jane. Mai una volta che non fosse venuta fuori una festa allegra. Per anni e anni era sempre andato tutto splendidamente, per quanto almeno si poteva ricordare, da quando cioè Kate e Julia, dopo la morte del fratello Pat, avevano lasciato l'abitazione in Stoney Better e con l'unica nipote, Mary Jane, erano andate a stare nella buia e squalli da casa di Usher Island, nella quale avevano preso in affitto il piano superiore del signor Fulham, il commerciante di granagli all'ingrosso del pian terreno. Erano passati almeno trent'anni da allora e sembrava un giorno. Mary Jane, che allora era una bimbetta dai vestitini corti, era ora il principale sostegno della famiglia, perché era lei che suonava l'organo di Heddington Road. Aveva studiato al conservatorio e ogni anno dava un concerto nella sala superiore dell'Ancien Concert. Molte delle sue allieve appartenevano alla migliore società di Kingstown e di Dirkley. Da parte loro, l'anziane come erano, le zie facevano la loro parte. Julia, benché completamente grigia, era ancora il primo soprano dell'Adamo ed Eva e Kate, essendo troppo delicata di salute per andare molto in giro, dava lezioni di musica ai principianti sul vecchio e solido piano verticale nella stanza in fondo. Lily, la figlia del custode, faceva loro da cameriera. Pur facendo una vita modesta, davano importanza alla buona cucina, sempre cibi della migliore qualità, filetti di vitello, tè da tre scellini e birra della migliore marca. Era difficile che Lily sbagliasse e perciò andava tutto bene con le sue tre padrone. Erano soltanto un po' nervose, nient'altro, e l'unica cosa che non sopportavano era di sentirsi rispondere. Naturalmente avevano ben ragione di essere agitate in una serata simile, tanto più che erano già passate le dieci e Gabrielle e sua moglie non si erano ancora fatti vedere. Inoltre avevano una gran paura che Freddie Malins arrivasse ubriaco. Per tutto l'oro del mondo non avrebbero voluto che qualcuna delle allieve di Mary Jane lo vedesse in preda ai fumi dell'alcol. E purtroppo, quando era in quello stato, era difficile fargli intender ragione. Freddie Malins aveva l'abitudine di venire tardi, ma si chiedevano che cosa mai avesse potuto trattenere Gabrielle, per questo non facevano che correre ogni due minuti alla ringhiera delle scale per chiedere a Lily se l'uno o l'altro fosse arrivato. «Oh, signor Conroy!» disse Lily a Gabrielle, aprendogli la porta. La signorina Kate e la signorina Julia cominciavano a temere che non sareste venuto. «Buonasera, signor Conroy!» «Non stento a crederlo», rispose Gabrielle, «ma dimenticano che a mia moglie per vestirsi servono tre ore buone». In piedi sul tappeto si scuoteva la neve dalle soprascarpe, mentre Lily accompagnava sua moglie ai piedi delle scale, mettendosi a gridare «Signorina Kate! C'è la signora Conroy!» Kate e Julia scesero subito trotterellando per la scala buia. Tutte e due abbracciarono la moglie di Gabrielle e chiesero se non era morta di freddo e se il marito fosse con lei. «Eccomi qua, preciso come un orologio! Andate pure su, io vengo subito!» Continuò a strofinarsi i piedi, mentre le tre donne ridendo salevano verso lo spogliatoio delle signore. Una leggera frangia di neve gli si era adagiata come una mantellina sulle spalle e come una mascherina sulla punta delle soprascarpe, e mentre i bottoni del soprabito scrittiolavano nel passare attraverso le asole irrigidite, una fredda e frangente aria esterna si sprigionava dalle pieghe e dalle aperture del cappotto. «Ha ripreso a nevicare, signor Conroy?» chiese Lily. Lo aveva preceduto nello sgabuzzino per aiutarlo a togliersi il soprabito. Gabriel sorrisse per il modo in cui aveva sillabato il suo nome e la guardò. Era una ragazza esile, nell'età della crescita, di carnagione pallida e dai capelli color fieno. L'illuminazione a gas dello sgabuzzino la faceva sembrare ancor più pallida. Gabriel l'aveva conosciuta bambina quando era solita sedersi sul gradino più basso della scala, cullando una bambola di pezza. «Sì, Lily», le rispose, «e penso che ne avremo per tutta la notte». Alzò gli occhi al soffitto, che tremava sotto i colpi dei passi di danza e delle giravolte al piano di sopra. Ascoltò per un momento il pianoforte e poi posò l'occhio sulla ragazza che stava piegando con cura il suo soprabito in fondo allo scaffale. «Dimmi, Lily», disse in tono amichevole, «vai ancora a scuola?» «Oh no, signore», le rispose, «quest'anno ho lasciato la scuola definitivamente». «Beh, allora riprese Gabriel gaiamente. Vorrà dire che uno di questi giorni saremo invitati a nozze e ti vedremo, sposa, al fianco del tuo ragazzo». La fanciulla gli diede un'occhiata da sopra la spalla e poi disse in tono profondamente amaro. «I uomini del giorno d'oggi non sono altro che degli adulatori che cercano solo di approfittarsi delle ragazze». Gabriel arrossì come se avesse la sensazione di aver commesso uno sbaglio. Senza guardarla si infilò le soprascarpe e con grande cura prese a spazzolarsi le scarpe di vernice, servendosi del fazzoletto. Era un uomo robusto e piuttosto alto. Il colore acceso delle sue guance si estendeva fin sulla fronte, dove si scindeva in alcune chiazze in formi di un rosso più tenue, sparpagliate qua e là, mentre sul viso liscio correva il guizzo scintillante delle lenti e della montatura dorata degli occhiali che proteggevano uno sguardo inquieto e delicato. I suoi capelli lucidi e neri erano divisi a metà e spazzolati all'indietro in modo da formare una lunga curva. Appena al di sotto del solco lasciato dal cappello erano leggermente ondulati. Lucidate ben bene le scarpe, si rialzò e si aggiustò il panciotto sul corpo massiccio. Poi con un gesto rapido si tolse di tasca una moneta e mettendogliela in mano le disse. Lili, manca poco a Natale, ti pare? Eccoti, giusto per un... Si incamminò svelto verso la porta. No, grazie, signore, si scrimina la ragazza seguendolo. Veramente non posso accettare. È Natale, è Natale, ripete Gabriel, quasi correndo verso le scale e facendo con la mano un gesto di scusa. La ragazza, vedendo che aveva raggiunto le scale, gli gridò dietro. Tante grazie allora, signore. Aspettò fuori della sala che il waltzer finisse, tendendo l'orecchio al fruscio delle gonne contro l'uscio e al rumore dei piedi che scivolavano sul pavimento. Era ancora turbato per la reazione amara e imprevista della ragazza. Gli aveva messo addosso un senso di malinconia che cercava di scacciare aggiustandosi i polsini al noto della cravatta. Poi si tolse dalla tasca del panciotto un foglietto e diede un'occhiata agli appunti che si era fatto per il discorso. Era indeciso sui versi di Robert Browning perché pensava che fossero oltre la portata dei suoi ascoltatori. Sarebbe andata meglio qualche citazione che avessero potuto riconoscere, qualcosa di Shakespeare o delle melodie. Il modo completamente privo di riguardo, in cui gli uomini battevano i tacchi e strisciavano i piedi, gli ricordò quanto il loro grado di cultura fosse diverso dal suo. Non avrebbe fatto altro che rendersi ridicolo citando dei versi che non avessero capito. Avrebbero pensato che voleva sfoggiare la sua superiore erudizione e avrebbe fallito con loro come aveva fallito con la ragazza nello scabuzzino. Aveva sbagliato tono e tutto il discorso era uno sbaglio dall'inizio alla fine, un fiasco completo. Proprio in quel momento le zie e la moglie uscirono dallo spogliatoio delle signore. Le zie erano due vecchiette piccoline vestite con semplicità. Delle due, zia Giulia era di circa un centimetro la più alta. I suoi capelli, che pettinava bassi sulle orecchie, erano grigi, e pure grigio, con ombre più scure, era il suo viso flaccido. Anche se era forte d'ossatura ed eretta nel portamento, lo sguardo instupidito e le labbra succhiuse le davano l'aria di una donna che non sa dove si trovi o dove stia andando. Zia Kate era più vivace. Il suo viso, più sano di quello della sorella, era tutto rughe e grinze come una glossa mela avvizzita, e i suoi capelli, anch'essi pettinati all'antica, non avevano perso il loro colore di nocciola matura. Tutte e due baciarono Gabriel con trasporto. Era il loro nipote preferito, il figlio di Ellen, la sorella maggiore morta, che aveva sposato T.J. Conroy, funzionario del porto e dei docks. — Gretta mi stava dicendo che non tornerete a Monkstown in carrozza stanotte, disse zia Kate. — Proprio così, rispose Gabriel, rivolgendosi alla moglie. Ne abbiamo avuto abbastanza l'anno scorso, vero? Non ti ricordi, zia Kate, che raffreddore si prese Gretta? I vetri della vettura per tutto il tragitto non fecero che sbattere. E, passato Marion, ci si mise anche il vento di Levante a soffiare dentro. Che divertimento! Gretta si bruscò un bel malanno. Zia Kate corrugava gravemente le sopracciglia e annuiva con la testa ad ogni parola. — Giusto, Gabriel, giustissimo, disse. Non si è mai abbastanza prudenti. — Magretta, riprese Gabriel, sarebbe capacissima di tornarsene a casa a piedi, in mezzo alla neve, se la lasciassi fare. La signora con Roy rise. — Non badargli, zia Kate, si difese. Lui sì che è un terribile seccatore, con la visiera verde per gli occhi di Tom, la sera, con gli esercizi coi manubri e col forzare Eva a mangiare la pappa d'avena. — Povera bambina! Lei che non la può soffrire. Oh, ma non vi immaginate che cosa mi costringe a portare ora. Esplose in uno scoppio di risa e guardò il marito, i cui occhi pieni di ammirazione e di felicità non avevano fatto che spostarsi dal vestito al viso e ai capelli di lei. Anche le zia risero di cuore, perché la sollecitudine di Gabriel era per loro continua fonte di divertimento. — Sopra scarpe, continuò la signora con Roy, questa è l'ultima. Ogni volta che ci hai bagnato per terra, devo mettermi le sopra scarpe. Anche stasera avrebbe voluto che lo facessi, ma mi sono rifiutata. Il primo regalo che mi farà sarà uno scafandro da palombaro. Gabriel rise nervosamente e si diede una giustatina alla clavatta per darsi un contegno, mentre il zia Kate si piegava quasi in due del gran ridere, tanto trovava buffa la cosa. Il sorriso si spense invece presto sul viso di zia Julia e i suoi occhi scialbi cercarono quelli del nipote. Poi dopo una pausa domandò «Ma cosa sono le sopra scarpe, Gabriel?» «Ma Julia!» esclamò sua sorella. «Buondio, non sai cosa sono!» «Si mettono sopra, sopra le altre scarpe, vero Gretta?» «Sì!» confermò la moglie di Gabriel. «Roba di gomma. Noi ne abbiamo un paio per uno!» Gabriel dice che tutti le portano nel continente. «Già, già, nel continente!» morvorozzi a Julia, annuendo lentamente con la testa. Gabriel aggrottò le sopracciglia e disse come se fosse leggermente seccato. «Non sono neanche di straordinario, ma Gretta ci trova tanto da ridere. Dice che il nome le ricorda certi menestrelli». «Ma dimmi, Gabriel!» fece zia Kate, cambiando abilmente discorso. «Vi sarete certo preoccupati di trovare una stanza per stanotte!» «Gretta stava giusto dicendo?» «Per la camera è tutto a posto», rispose Gabriel. «No, prenotata una al Grisham». «Sicuro,» osservò zia Kate. «È la miglior cosa che potevate fare». «E per i bambini, Gretta, sei in pensiero?» «Beh, per una notte», rispose la signora con Roy, «e poi c'è Bessie con loro». «Sicuro», ripete ancora zia Kate. «Che tranquillità avere una ragazza di quel tipo su cui poter contare. Prendete per esempio Lily. Non so proprio cosa le sia capitato da un po' di tempo a questa parte, ma non è più la stessa». Gabriel stava per fare qualche domanda alla zia sull'argomento, ma questa si interruppe improvvisamente per seguire con lo sguardo la sorella, che sporgendo il collo dalla ringhiera si era avviata giù per le scale. «Me lo sai dire tu?» disse quasi con stizza. «Dove sta andando Julia?» «Julia, Julia, dove vai?» Julia, che si trovava a metà tra un piano e l'altro, tornò indietro e annunciò blanda. «Ecco Freddy!» In quel momento un battimani e un virtuosismo finale del pianista annunciarono la fine del waltzer. La porta della scala si aprì dall'interno e uscirono alcune coppie. Svelta, svelta, Sir Kate tirò Gabriel in disparte e gli sussurrò all'orecchio. «Va giù un momento, Gabriel, da bravo, e vedi un po' in che stato è. Non lasciarlo salire, se è ubriaco. Lo sarà certamente, me lo sento». Gabriel si dirasse verso le scale e si mise in ascolto alla ringhiera. Gli giungevano le voci di due persone che parlavano nello sgabuzzino. Poi riconobbe il modo di ridere di Freddy Malins. Scese le scale, rumorosamente, «È un tale sollievo, confidòsì a Kate, alla signora Conroy, avere qui Gabriel. Mi sento sempre più tranquilla quando c'è lui. Giulia, la signorina Daly e la signorina Power forse prenderebbero volentieri qualcosa. Grazie per il bellissimo waltzer, signorina Daly. Un ritmo magnifico». Un uomo alto con la faccia grinzosa, baffi duri e brizzolati, di carnagione bruna, che stava uscendo in quel momento con la sua dama, disse «C'è qualcosa anche per noi, signorina Morkan?» Giulia, rispose zia Kate laconicamente, «Ci sono anche il signor Brown e la signorina Furlong. Accompagna di là anche loro, insieme alla signorina Daly e alla signorina Power. Farò da cavaliere al signore», disse il signor Brown, increspando le labbra fino ad arricciare i baffi e sorridendo in tutte le sue rughe. «Sapete, signorina Morkan, per quale motivo le donne vanno pazze per me?» Non finì la frase, ma, vedendo che zia Kate non gli dava ascolto, portò senz'altro le tre signorine nella stanza in fondo. Qui, al centro, erano stati sistemati due tavoli quadrati, uno contro l'altro. Su di essi zia Julia e il portiere stavano stendendo e lisciando ben bene una grande tovaglia. Su una credenza erano allineati vassoi, piatti, bicchieri e mazze di posate. Il coperchio del pianoforte abbassato serviva per appoggiarvi dolci e tartine. Vicino a una credenza più piccola, in un angolo, due giovanotti in piedi bevevano birra. Il signor Brown diresse là le sue tre dame e per scherzo le invitò tutte a prendere un ponce per signore, caldo, forte e dolce. Avendo però queste dichiarate di non avere l'abitudine di bere bevande alcoliche, aprì per loro tre bottiglie di limonata. Poi chiese a uno dei giovanotti di spostarsi per favore e, impugnando saldamente la calaffa, si versò una generosa dose di whisky. Con sguardo di deferente ammirazione, i due giovanotti lo osservavano mentre trangugiava un sorso come assaggio. «Che Dio mi assista», disse sorridendo, ma me l'ha ordinato il dottore. Un sorriso ancora più ampio illuminò la faccia rugosa e le tre signorine risero per lo scherzo, facendogli un eco musicale e dondolandosi di qua e di là, mentre le loro spalle erano scosse da sussulti nervosi. La più audace delle tre azzardò. «Beh, beh, signor Brown, sono sicura che il dottore non vi ha prescritto niente del genere». Brown prese un altro sorso del suo whisky e con una mossa caricaturale proseguì. «Sapete, sono come la famosa signora Cassidy, nota per aver detto, ora Mary Grimes, se non lo prendo, fatemelo prendere, perché sento di averne bisogno». Aveva piegato il viso in avanti un po' troppo confidenzialmente e preso un forte accento dublinese, tanto che tutte e tre le signorine, neppure si fossero messe d'accordo, istintivamente accolsero la frase in silenzio. La signorina Furlong, una delle allievi di Mary Jane, chiese alla signorina Daly il titolo del brioso waltzer che aveva eseguito. Il signor Brown, vedendo signorato, si rivolse prontamente ai due giovanotti che sembravano più favorevoli ad apprezzarlo. Una giovane rossa in viso, vestita di viola, si precipitò nella stanza, battendo le mani eccitate e gridando «La quadriglia! La quadriglia!» Zia Kate le stava alle calcagne, gridando anche lei «Due cavalieri e tre dame, Mary Jane!» «Ecco qua il signor Bergin e il signor Kerrigan!» disse Mary Jane. «Signor Kerrigan, volete per dama la signorina Power?» «Signorina Furlong, posso darvi per cavalieri e il signor Bergin?» «Così va bene!» «Tre dame, Mary Jane!» insistette Zia Kate. I due giovanotti chiesero alle rispettive damicelle se potevano avere l'onore e Mary Jane si rivolse alla signorina Daly. «Signorina Daly, stata davvero tanto cara ad accompagnare questi due ultimi balli! Ma siamo così a corto di dame stasera!» «Ma per carità, signorina Morgan, non è il caso! Ho però un simpatico cavaliere per voi, il signor Bartel Darcy, il tenore! Più tardi gli chiederò di cantare!» «Tutta Dublino, delira per lui!» «Una splendida voce, veramente splendida!» interroquizia Kate. Poiché il piano aveva già attaccato due volte le prime note di accompagnamento, Mary Jane spinse le sue reclute fuori dalla stanza in fretta. Se n'erano appena andate che Zia Julia entrò pian piano, guardandosi di tanto in tanto alle spalle. «Cosa c'è, Julia?» fece Zia Kate, ansiosa. «Chi c'è?» Julia, che reggeva sulle braccia una pila di tovaglioli, si rivolse alla sorella e rispose semplicemente, come se la domanda l'avesse sorpresa. Soltanto Freddy, Kate insieme con Gabriel. Infatti, proprio dietro a lei, si vedeva Gabriel che pilotava Freddy Melins attraverso il pianerottolo. Questi, un uomo sulla quarantina, era della stessa altezza e corporatura di Gabriel, e sue spalle erano tonde. Aveva il viso carnoso e pallido, toccato appena da una nota di colore intorno ai lobi delle orecchie, grossi e pendenti, e alle estremità delle narici. Lineamenti grossolani, il naso schiacciato, la fronte convessa e sfuggente, le labbra tumide e sporgenti. Gli occhi dalle palpebre grevi e il disordine dei suoi pochi capelli gli davano un'aria assonnata. Stava ridendo forte e di cuore a proposito di una storiella che aveva appena finito di raccontare a Gabriel sulle scale, e nello stesso tempo si stropicciava l'occhio sinistro con le nocche del pugno. «Buonasera, Freddy», disse zia Giulia. Freddy Melins augurò la buonasera alle signorine Morkan, in un modo che, per via del suo singhiozzo cronico, poteva anche sembrare incurante. Poi, vedendo che il signor Brown, li amichiava da vicino alla credenza, attraversò la stanza sulle gambe piuttosto malferme, e si mise a ripetergli, in tono più basso, la storiella che aveva appena raccontato a Gabriel. «Non è poi ridotto tanto male», osservò zia Kate, rivolta a Gabriel. Gabriel aveva la fronte corrugata, ma subito la spianò e rispose «Ma certo, si nota appena». «Che ti paccio», riprese la zia, «e pensare che quella buona donna di sua madre glielo aveva fatto promettere la sera di Capodanno». «Ma avanti, Gabriel, vieni in sala». Prima di lasciare la sala con Gabriel, richiamò l'attenzione del signor Brown, aggrottando le sopracciglia e scuotendo l'indice in segno di avvertimento. Il signor Brown fece un cenno con la testa in risposta e, quando se ne fu andata, disse a Freddy Melins «Su, Freddy, ti verserò un buon bicchiere di limonata. Quello ci vuole per rimetterti in sesto». Freddy Melins, che si stava avvicinando al punto culminante del racconto, rifiutò l'offerta con un gesto di impazienza, ma il signor Brown, dopo aver richiamato la sua attenzione sul vestito in disordine, riempì un bicchiere di limonata fino all'orlo e glielo porse. La mano sinistra di Freddy Melins accettò meccanicamente il bicchiere, mentre la destra, con gesto altrettanto meccanico, era intenta al riordino del vestito. Il signor Brown, al quale l'allegria accentuava ancora di più le rughe del viso, si versò un bicchiere di whisky, mentre Freddy Melins esplodeva, prima di aver raggiunto il culmine della storiella, in una risata rauco e acuta e, posato il bicchiere intatto e traboccante sulla credenza, ricominciava a strofinarsi l'occhio sinistro con le nocche del pugno, ripetendo le parole dell'ultima frase, per quanto il riso convulso glielo permetteva. Gabriel non riusciva a stare attento, mentre Mary Jane eseguiva il suo pezzo da concerto, pieno di scale e di passaggi difficili, di fronte a un pubblico silenzioso. Amava la musica, ma quel pezzo mancava di melodia per lui e dubitava che ne avesse anche per gli altri, anche se avevano tanto pregato a Mary Jane di suonare qualcosa. Quattro giovanotti, che richiamati dalla musica, avevano lasciato la sala da rinfresco e si erano avvicinati fermandosi sulla porta, se ne erano andati via di soppiatto, due alla volta dopo pochi minuti. Le sole persone che sembravano seguire la musica erano Mary Jane, le cui mani scorrevano sulla tastiera o si alzavano nelle pause come quelle di una sacerdotessa in una momentanea invocazione, e zia Kate, che restava al fianco per girare le pagine. Gli occhi di Gabriel, abbagliati dal riflesso del pesante lampadario sul pavimento lucidato a cera, vagavano sulla parete sopra il piano, dove era appeso un quadro, raffigurante la scena del balcone della Giulietta e Romeo. Vicino a questo quadro ce n'era un altro, ricamato da zia Giulia con lane rosse, blu e marroni quando era ragazza, che rappresentava i due giovani uccisi nella torre. Probabilmente nella scuola che avevano frequentato da giovenette quel lavoro era il frutto di un anno di insegnamento. Anche sua madre gli aveva fatto come dono per un compleanno un panciotto di moer viola, lavorato a piccole teste di volpe con profili di seta marrone e bottoni rotondi a forma di more. Era strano che sua madre non avesse avuto nessun talento musicale, sebbene zia Kate la considerasse il cervello della famiglia Morkan. Tanto lei che Giulia si erano sempre mostrate molto orgogliose di quella sorella seria e matronale. C'era la sua fotografia davanti alla specchiera, aveva un libro aperto sulle ginocchia e indicava qualcosa a Costantin che vestito alla marinara era accovacciato ai suoi piedi. Era stata lei a scegliere i nomi dei figli perché era molto sensibile alla dignità della vita familiare. Grazie a lei Costantin era ora curato a Balbregen e Gabriel aveva preso la sua brava laurea all'università. Un'ombra gli passò sul viso ricordando la testarda opposizione della madre al suo matrimonio. Frasi di disprezzo da lei pronunciate gli erano ancora impresse nella memoria. Una volta aveva parlato di Greta come di una contadina furba e questo non era per niente vero. E pensare che era stata proprio Greta ad assistere durante la sua ultima lunga malattia nella casa di Monkstown. Si rese conto che Mary Jane doveva essere vicina a finire perché ripeteva la melodia iniziale con volate di scale dopo ogni battuta e mentre aspettava che la musica terminasse il risentimento gli si spense in cuore. Il brano si chiuse con un trillo di ottave negli acuti e una forte ottava finale nel basso. Uno scroscio di applausi salutò Mary Jane mentre arrossendo e arrotolando nervosamente la musica scappava via dalla stanza. Il battimani più fragoroso fu quello dei quattro giovanotti che si erano allontanati verso la sala da rinfresco ai primi accordi e che erano ricomparsi sulla soglia non appena il piano aveva smesso di suonare. Si combinarono i lanceri. Gabriel capitò in coppia con la signorina Ivor. Una ragazza franca, loquace, con il viso lentigginoso e con gli occhi scuri e sporgenti. Indossava un corpetto accollato. Sul davanti aveva appuntata una grossa spilla su cui erano incisi un emblema e un moto irlandesi. Una volta sistemati ai loro posti la ragazza disse improvvisamente. Mi dovete una spiegazione? Io, fece Gabriel, lei a noi con gravità. Di che si tratta? Chiese Gabriel sorridendo di quell'aria solenne. Chi è, G.C., domandò dirimando la signorina Ivor spiantandogli gli occhi addosso. Gabriel arrossì e stava per agglottare la fronte, come se non avesse capito, quando lei disse brusca, non fate l'ingenuo. Ho scoperto che scrivete per il Daily Express. Non vi vergognate? Perché dovrei vergognarmi? Chiese Gabriel battendo le palpebre e cercando di sorridere. Allora mi vergognerò io per voi, continuò la signorina Ivor con franchezza. Pensare che scrivete per un giornale simile. Non credevo che foste un anglofilo. Infiso di Gabriel prese un'aria perplessa. Era vero che ogni mercoledì scriveva per il Daily Express una colonna di critica letteraria, che gli veniva pagata 15 scellini. Ma questo non era certo sufficiente a fare di lui un anglofilo. I libri, per i quali doveva fare la recensione, lo interessavano molto di più di quel misero assegno. Amava sentirsi sotto le dita le copertine e sfogliare le pagine dei libri appena finiti di stampare. Poi ogni giorno, terminate le lezioni al collegio, se ne andava a vagabondare sul lungo fiume, nelle botteghe di libri usati. Da Hickley sulla Bachelor Walk, da Webb o da Massey sull'Alston Quay o da Oclossi nel vicolo vicino. Non sapeva come comportarsi di fronte all'accusa della ragazza. Era tentato di dirle che la letteratura era di sopra della politica. Ma erano amici di vecchia data e anche nella vita le loro strade erano sempre state parallele, prima all'università, poi come insegnanti. Non poteva rischiare una frase troppo d'effetto con lei. Continuò perciò a sbattere le palpebre, a cercare di sorridere e a mormorare debolmente che non ci vedeva nessuna relazione con la politica nella recensione di libri. Quando venne il loro turno di attraversare, era ancora perplesso e distratto. La signorina Ivor, pronta, lo affertò per la mano con una stretta calda e gli sussurrò in tono tenero e amichevole. Naturalmente stavo solo scherzando. Venite, tocca a noi portarci dall'altra parte. Quando si trovarono di nuovo insieme, la signorina Ivor prese a parlare sul problema dell'università e Gabriel si sentì più a suo agio. Un'amica le aveva mostrato la sua recensione sulle poesie di Browning. Così aveva scoperto il segreto. Ma l'articolo le era piaciuto. Molto. Poi improvvisamente disse, oh signor Conroy, perché non venite anche voi alle isole Aran quest'estate? Ci fermeremo là un mese. Sarà meraviglioso laggiù sull'Atlantico. Dovete venire. Ci vengono anche il signor Clancy, il signor Keigli e Kathleen Kearney. Sarà splendido anche per Greta se ci verrà. È di Connacht, no? La sua famiglia, sì, rispose Gabriel laconicamente. Ma ci verrete, vero? Disse con trasporto la signorina Ivor, posandogli sul braccio la mano calda. Il fatto è, cominciò a dire Gabriel, che ho già combinato di andare dove, case la signorina Ivor. Vi dirò, ogni anno combiniamo un giro in bicicletta. Siamo un gruppetto di amici e così, ma dove? Insistete la ragazza. Di solito andiamo in Francia, nel Belgio o magari in Germania, precisò Gabriel goffamente. E perché andate in Francia o nel Belgio? Chiese la signorina Ivor, invece di visitare il vostro paese. Da una parte, fece Gabriel, per rimanere in esercizio con le lingue e dall'altra tanto per cambiare. Non avete la vostra lingua con la quale fare esercizio? L'irlandese? Chiese la signorina Ivor. Se ci tenete tanto a saperlo, rispose Gabriel, l'irlandese non è la mia lingua. Le coppie vicine si erano girate ad ascoltare il battibecco. Gabriel guardava a destra e a sinistra nervosamente e cercava di mantenersi di buon umore, nonostante la prova che lo faceva arrossire fino alla radice dei capelli. E non avete il vostro paese da visitare, continuò la signorina Ivor, di cui non sapete niente, la vostra gente e la vostra terra. A dire la verità, le rispose per le rime Gabriel, sono stufo del mio paese e ne ho fin sopra i capelli. Perché? insistette la signorina Ivor. Gabriel non ribatté, perché l'improvviso sfogo gli aveva fatto salire il sangue alla testa. Perché? fece di nuovo la signorina Ivor. Nella danza si era arrivati alla figura delle visite e, poiché non le aveva risposto, la ragazza scattò vivacemente. Naturale, non sapete che cosa rispondere. Gabriel cercò di mascherare l'agitazione, buttandosi anima e corpo nella danza. Evitava lo sguardo di lei perché le aveva notato in viso una espressione di contrarietà, ma quando si ritrovarono nella catena fu sorpreso di sentirsi stringere forte la mano. La signorina Ivor lo guardò per un istante da sotto in su, con un'aria beffarda, finché lui le sorrise. Poi, proprio nel momento in cui la catena stava per riprendere, si alzò in punta di piedi e gli bisbigliò all'orecchio. Anglofilo! Terminata la danza, Gabriel si allontanò verso un angolo appartato della stanza dove sedeva la madre di Freddy Malins, una donna anziana e malandata, con i capelli bianchi, nella cui voce, come in quella del figlio, si sentiva una specie di singhiozzo, inoltre balbettava un po'. Era già stata informata dell'arrivo di Freddy e che era quasi in perfetta efficienza. Gabriel le chiese se aveva fatto una buona attraversata. Viveva a Glasgow con la figlia sposata e veniva a Dublino una volta all'anno. Dispose placida che la attraversata era stata ottima e che il capitano si era preso molta cura di lei. Parlò anche della bella casa della figlia a Glasgow e di tutti gli amici che avevano là. Mentre la signora Malins continuava il suo balbettio, Gabriel provava a cacciare dalla mente ogni ricordo dello spiacevole incidente con la signorina Ivor. Naturalmente la ragazza, o donna o che altro fosse, era una fanatica, ma ogni cosa a suo tempo. Forse da parte sua non avrebbe dovuto risponderle in quel modo, ma lei aveva il diritto di chiamarlo anglofilo davanti alla gente, seppure per gioco. Aveva cercato di renderlo ridicolo davanti a tutti, facendogli delle domande imbarazzanti e fissandolo con quegli occhi da coniglio. Vide sua moglie farsi strada tra le coppie di ballerini e venire verso di lui. Dopo averlo raggiunto, gli sussurrò «Gabrie, Jacket vuole sapere se taglierai tu loca, come al solito». La signorina Daily taglierà il prosciutto e dio il padding. «Va bene», disse Gabriel. «Manderà avanti nella sala da rinfresco i giovani, non appena finito questo waltzer. Così avremo tutto il tavolo per noi». «Stavi ballando?» le chiese Gabriel. «Certo, non mi hai visto. Che battibecco hai avuto con Molly Ivor?» «Nessun battibecco. Perché?» «Te lo ha detto a lei?» «Qualcosa del genere. Sto cercando di convincere quel signor Darcy a cantare. Ma mi sembra tanto pieno di sé». «Non c'è stato nessun battibecco», continuò Gabriel. «Voleva soltanto che partecipassi a una vacanza nell'Irlanda occidentale e le ho risposto che non ne avevo voglia». Sua moglie batte le mani eccitata e fece un saltino. «Andiamoci, Gabriel», disse forte. «Ci terrei tanto a rivedere Galway. Ne facci, se vuoi», ripette Gabriel, freddo. Greta lo guardò per un attimo. Poi, rivolta alla signorina Mullins, commentò «Che marito gentile, eh, signora Mullins!» Mentre si allontanava di nuovo attraverso la stanza, la signora Mullins, senza rendersi conto dell'interruzione, continuò imperterrita a raccontare a Gabriel quali posti magnifici e splendidi paesaggi c'erano in Scozia. Suo genero le portava ogni anno sui laghi, dove andavano a pesca. Era un pescatore nato, suo genero. Una volta aveva preso un pesce eccezionale e il cuoco dell'albergo l'aveva cucinato per pranzo. Gabriel ascoltava appena quello che stava dicendo. Adesso che si avvicinava l'ora di cena, ricominciava a pensare al suo discorso e alle citazioni. Quando vide Freddy Mullins attraversare la stanza in direzione della madre, Gabriel gli lasciò libera la sedia e si ritirò nel vano della finestra. La sala era già stata sgombrata e dalla stanza in fondo arrivava un rumore di piatti e di posate. Quelli che erano rimasti lì in sala avevano l'aria di essere stanchi di ballare. Chiacchieravano tranquillamente in gruppetti. Le dita calde e tremanti di Gabriel tamburellavano sul freddo vetro della finestra. Che freddo doveva esserci fuori! Come sarebbe stato piacevole camminare solo solo prima arriva al fiume e poi attraverso il parco. La neve doveva essersi posata sui rami degli alberi e aver formato un cappuccio splendente in cima al monumento di Wellington. Quanto più piacevole sarebbe stato trovarsi là che non al tavolo della cena! Ripassò mentalmente il discorso per grandi capi. L'ospitalità irlandese, i tristi ricordi, le tre grazie, paridi, la citazione del Browning. Si ripetè una frase che aveva scritto nell'articolo. Si ha la sensazione di ascoltare una musica tormentata di pensiero. La signorina Ivor ne aveva fatto le lodi. Era sincera? Aveva effettivamente una vita propria dietro tutto quello zelo di propaganda? Non c'erano mai stati malintesi tra loro fino a quella sera. Lo rendeva nervoso l'idea che sarebbe stata là a tavola a fissarlo mentre parlava con quegli occhi critici e ironici. Forse non le sarebbe dispiaciuto vederlo far fiasco. Gli venne un'idea che gli diede coraggio. Avrebbe detto, alludendo alle zie, signore e signori, la generazione che si avvia al declino può aver avuto i suoi torti, ma secondo me aveva certe doti di ospitalità, spirito e umanità che mi sembra manchino alla nuova, serissima e supereducata generazione che ci vediamo crescere sotto gli occhi. Benissimo, una frecciatina per la signorina Ivor. Che cosa gliene importava se le sue zie erano soltanto due vecchie ignoranti? Un appoggiata al suo braccio sorrideva e chinava il capo. Una salva di applausi la scortò fino al pianoforte e poi gradualmente cessò, mentre Mary Jane si sedeva sullo sgabello e zia Giulia, senza più sorridere, faceva una semirotazione col busto per dare modo alla sua voce di espandersi uniformemente per il locale. Gabriel riconobbe il preludio. Era quello di una vecchia canzone di zia Giulia, ornata per le nozze. La sua voce, forte e chiara di tono, attaccò con grande brio i gorghezzi che ne abbellivano l'aria e pur cantando molto rapidamente non dimenticò nessuna, neanche la più piccola fioritura. Ad ascoltare quella voce, senza guardare il viso della cantante, si aveva la sensazione di condividere l'ebbrezza di un volo rapido e sicuro. Gabriel applaudì forte con gli altri alla fine del pezzo e un caloroso applauso partì anche dalla tavolata, nascosta alla vista nella stanza in fondo. Sembrava così spontaneo che un po' di colore si diffuse sul volto di zia Giulia, mentre si chinava a riporre nello scaffale il vecchio libro di canzoni rilegato in cuoio, sulla cui copertina erano impresse le sue iniziali. Freddy Malins, che aveva ascoltato con la testa piegata da un lato per sentire meglio, continuava ad applaudire quando tutti gli altri avevano già smesso e a parlare animatamente con sua madre, che assentiva con la testa, lentamente e con gravità. Alla fine, quando fu stanco di battere le mani, si alzò di scatto, attraversò rapidamente la stanza dirigendosi verso il zia Giulia, gli afferrò una mano e la tenne tra le sue scuotendola, come faceva quando gli mancavano le parole o quando il singhiozzo lo metteva a dura prova. Stavo giusto dicendo a mia madre, disse, che non vi ho mai sentito cantare così bene, proprio mai. Davvero, la vostra voce non mi è mai sembrata così bella come stasera. Vi prego di credermi, è la verità. Sulla mia parola d'onore, proprio la verità. La vostra voce non è mai suonata al mio orecchio, così fresca e così limpida e fresca, mai. Sia Giulia fece un largo sorriso e mormorò qualcosa a proposito dei complimenti, mentre svicolava la mano dalla sua stretta. Il signor Brown tese la mano aperta verso di lei e disse a coloro che gli stavano vicino, come fa un imbonitore che presenta un prodigio al pubblico. La signorina Giulia Morkan, la mia ultima scoperta. Stava ridendo di cuore di questa sua battuta, quando Freddy Mullins si girò verso di lui e gli disse, «Beh, Brown, a parte gli scherzi, poteva davvero andarvi peggio, come scoperta. Quello che io posso dire è che non l'ho mai sentita cantare così bene da quando vengo qui. Stasera è di gran lunga al di sopra delle sue migliori tradizioni. È la pura e semplice verità». «Neanch'io l'ho mai sentita cantare tanto bene», fece il signor Brown. «Per me la sua voce è migliorata di molto». Zia Giulia alzò le spalle e disse con timido orgoglio. «Trent'anni fa non era poi così male la mia voce. Ho detto spesso a Giulia, intervenne con enfasi zia Kate, che era semplicemente sprecata in quel coro, ma lei non mi ha mai voluto dare ascolto». Si girò come per fare appello al buon senso degli altri di fronte a una bambina capricciosa, mentre zia Giulia guardava dritto davanti a sé. Un vago sorriso di ricordi le alleggiava sul viso. «No», continuò zia Kate, «non volle sentir consigli o lasciarsi guidare da nessuno, continuando a lavorare come una schiava in quel coro. Giorno e notte, notte e giorno. Anche il giorno di Natale. Sveglio alle sei. E tutto questo a che scopo?» «Beh, a maggior gloria di Dio, ti pare, zia Kate», disse Mary Jane, rigerandosi sullo scabello del piano e sorridendo. Zia Kate si girò in ferocita verso la nipote e ribatté. «So benissimo anch'io quel che riguarda la gloria di Dio, Mary Jane, ma penso che non sia bello, da parte del Papa, cacciare via le donne dai cori, dopo che ci hanno sudato tutta la vita e dare il loro posto a dei ragazzini di poco conto. Lo farà di sicuro per il bene della chiesa.» «Ma non è giusto, Mary Jane.» «Non è giusto.» Si era molto infervorata e avrebbe continuato in difesa della sorella, perché era un argomento scottante per lei. Ma Mary Jane, notando che tutti i ballerini erano ritornati, e si rivolse in tono conciliante. «Via, zia Kate, stai dando scandalo al signor Brown, che propende dall'altra parte.» Zia Kate si girò verso il signor Brown, che si era messo a sogghignare a questa allusione alla sua religione, e disse in fretta. «Non mi permetto certo di giudicare l'operato del Papa. Non sono altro che una vecchietta ignorante e non voglio avere la presunzione di fare una cosa simile.» «Ma non c'è cosa più grande della gentilezza e della gratitudine nella vita di tutti i giorni. Se fossi in Giulia glielo direi chiaro e tondo a quel padre Hayley.» «D'altra parte, zia Kate», osservò Mary Jane, «abbiamo tutti fame, e si sa che quando si ha fame, sia più irascibili.» «E anche quando si ha sete», aggiunse il signor Brown. «Beh, allora faremmo meglio a metterci a tavola», concluse Mary Jane, «e finire dopo la discussione.» Sul pianerottolo davanti alla sala da ricevimento, Gabriel trovò sua moglie e Mary Jane che tentavano di convincere la signorina Ivor a rimanere a cena. Ma la signorina Ivor, che si era già messa il cappello e si stava abbottonando il soprabito, non voleva restare. Non sentiva affatto appetito e aveva già fatto più tardi del previsto. «Ma è questione di dieci minuti, molli», osservò la signora Conroy. «Non saranno certo questi a farti far tardi.» «Giusto il tempo di prendere un boccone», intervenne Mary Jane, «con tutto il ballare che hai fatto.» «Davvero non posso», rispose la signorina Ivor. «Temo che tu non ti sia divertita affatto.» Diccherò Mary Jane con aria sconsolata. «Al contrario, non mi sono mai divertita tanto», insistette la signorina Ivor. «Ma adesso dovete proprio lasciarmi scappare.» «Ma come fai ad andare a casa?» chiese la signorina Conroy. «Sono soltanto due passi, da qui a lungo fiume.» Gabriel esitò un momento, poi disse «Se permette, signorina Ivor, vi accompagnerò a casa, se proprio dovete andarvene.» «Ma la signorina Ivor si era già allontanata da loro con mossa rapida.» «Non ne parlate nemmeno», gridò. «Per l'amor del cielo, cenate in santa pace e lasciatemi perdere. Sa badare benissimo a me stessa.» «È un tipo ben strano, Molly», osservò la signora Conroy con franchezza. «Ben Achtlib!», gridò la signorina Ivor con una risata correndo giù per le scale. Mary Jane la seguì con lo sguardo e con una espressione trasseccata e imbarazzata dipinta sul viso, mentre la signora Conroy si sporgeva dalla ringhiera per ascoltare e richudersi la porta d'ingresso. Gabriel si chiese se non fosse lui la causa di quella brusca partenza, ma non sembrava di cattivo umore. Se n'era andata ridendo. Guardò giù per le scale distrattamente. In quel momento Zia Kate uscì barcollando dalla sala da pranzo, quasi torcendosi le mani dalla disperazione. «Dov'è Gabriel?», gridò. «Dove diamine si è cacciato, Gabriel!» «Sono là tutti che aspettano di cominciare e non c'è nessuno che tagli l'oca!» «Sono qui, Zia Kate», strillò Gabriel di rimando con improvvisa animazione. «Pronto a tagliare un esercito, se necessario!» Un'oca grassa e dorata era stata sistemata a un'estremità della tavola, mentre dall'altro capo, su uno strato di carta crespata e rametti di prezzemolo, faceva un grosso prosciutto già privo di cotenna e cosparso di pane grattugiato, ornato di una bella carta che ne avvolgeva l'osso, e vicino al prosciutto c'era un grosso pezzo di manzo alle spezie. Tra questi due estremi correvano file parallele di piatti di contorno, due cupole di gelatina rossa e gialla, un piatto basso pieno di blocchi di bianco mangiare e di marmellata rossa, un vassoio verde a forma di foglia con un manico a stelo, su cui erano posati grappoli di uva porpurea e mandorle sgusciate, e un altro uguale, su cui erano collocati in un solido rettangolo fichi di smirne, un piatto di torta di crema su cui era stata grattugiata della noce moscata, una coppa ripiena di cioccolatini e altri dolci, avvolti in carta stagnola d'oro e d'argento, infine un vaso di contenente alcuni lunghi gambi di sedano. Al centro della tavola erano state sistemate, come sentinelle davanti a un'alzata che sosteneva una piramide di arance e di mele americane, due panciute caraffe antiche di cristallo, una contenente porto e l'altra sherry scuro. Sul pianoforte chiuso stava aspettando un padding su un enorme piatto giallo, e dietro erano allineati tra gruppi di bottiglie di birra e di acqua minerale, disposti secondo il colore della loro etichetta. I primi due gruppi neri, con etichette marroni e rosse, il terzo più piccolo, bianco a strisce verdi trasversali. Gabriel si sedette con baldanza a capotavola e, esaminata la lama del coltello, piantò con mano ferma la forchetta nell'oca. Si sentiva completamente a suo agio, ora, perché sapeva di essere un esperto nell'arte di tagliare l'oca e perché non c'era niente che gli piacesse di più che trovarsi a capo in una tavola ben imbandita. Signorina Furlong, che cosa volete? chiese. Un'ala o un po' di petto? Un pochino di petto, per favore. E voi, signorina Higgins? Per me fa lo stesso, signor Conroy. Mentre Gabriel e la signorina Daily si scambiavano i piatti con l'oca, il prosciutto e l'arrosto, Daily faceva il giro degli invitati con un vassoio di patate calde e infarinate, avvolto in un tovagliolo bianco. L'idea era partita da Mary Jane ed era stata ancora lei a suggerire la composta di mele da servirsi con l'oca. Mazia Kate aveva detto che, secondo lei, la semplice ocaarrosto senza salsa era anche troppo e si augurava di non essere mai costretta a mangiare peggio. Mary Jane si occupava delle sue allieve e aveva cura che prendessero i bocconi migliori e sia Kate e sia Giulia stappavano e trasferivano dal piano alla tavola bottiglie di birra chiara e scura per gli uomini e di acqua minerale per le signore. Se ne faceva di confusione, di risate, di fracasso, con ordine e contrordini, coltelli e forchette, tappi di sughero e di vetro. Finito il primo giro, Gabriel, senza nemmeno servirsi, riprese a tagliare altre porzioni, ma si alzò un tale coro di proteste che dovette scendere a un compromesso e bere un buon sorso di birra, perché aveva fatto una bella fatica. Mary Jane si era messa a sedere tranquilla davanti al suo piatto, ma sia Kate e sia Giulia stavano ancora tropperellando intorno alla tavola, pestandosi i piedi, intralciandosi il passo e dandosi reciprocamente degli ordini che venivano ignorati dall'altra. Il signor Brown le invitò a sedersi e a mangiare in santa pace. Altrettanto fece Gabriel, ma loro dissero che di tempo ce n'era, e così alla fine Freddy Mullins si alzò e, afferratasi a Kate, la costrinse a sedersi tra l'ilarità generale. Quando tutti ebbero avuto la loro parte, Gabriel disse sorridendo, ora, se qualcuno desidera rimpinzarsi, come volgarmente si dice, si faccia avanti. Un coro di voce lo invitò a mettersi a mangiare anche lui, mentre lì veniva verso di lui con tre patate che gli avevano messo da parte. Benissimo, fece Gabriel amabilmente, mentre prendeva come aperitivo un altro sorso di birra. Signori e signore, per piacere, per qualche minuto dimenticatevi di me. Cichinò sul piatto e non prese parte alla conversazione con la quale i commensali coprivano il rumore che lì faceva nel rimuovere i piatti. Il discorso puntava sulla compagnia lirica che stava allora recitando al Royal Theatre, e il signor Bartel D'Arcy, il tenore, un giovanotto di carnagione bruna dai baffetti appuntiti, apprezzava moltissimo il primo contralto, ma la signorina Furlong trovava che aveva un gioco scenico volgare. Freddy Mullins disse che c'era un capotribù negro che cantava nella seconda parte del balletto, che aveva una delle più belle voci tenorili che avesse mai sentito. «L'avete sentito?» chiese al signor Bartel D'Arcy, che era dall'altro lato della tavola. «No», rispose questi con tono non curante. «Perché?» spiegò Freddy Mullins. «Sarei proprio curioso di sentire la vostra opinione su di lui. Penso abbia una voce magnifica. Ci vuole proprio il nostro Teddy per scovare quello che effettivamente vale», osservò familiarmente il Brown, rivolgendosi a tutta la tavolata. «E perché non dovrebbe avere una buona voce?» chiese Freddy Mullins in tono acido. «Soltanto perché è un negro?» Nessuno rispose, e Mary Jane riportò la conversazione sull'opera in generale. «Una delle sue allieve aveva dato un biglietto per la Mignon. Naturalmente era bellissima», disse, «ma le ricordava la povera Georgina Burns. Il signor Brown poteva risalire ancora più in là, alle vecchie compagnie italiane che erano solite venire a Dublino. Tietien, Ilma de Murska, Campanini, il grande Trebelli, Giulini, Ravelli, Aramburo, quelli sì che erano tempi», osservò, quando a Dublino si poteva sentire cantare in un modo simile. Raccontò anche di come era gremito ogni sera il loggione del vecchio Royal, di come un tenore italiano fosse stato bissato e avesse dovuto ripetere ben cinque volte l'aria «Lasciatemi cadere come un soldato», salendo ogni volta al do di petto e di come a volte i giovani nel loro entusiasmo avessero staccato i cavalli dalla carrozza di qualche famosa prima donna e l'avessero portata in trionfo per le strade fino al suo albergo. «Perché non si danno più le grandi opere di una volta?», chiese. «Dinora o la Lucrezia Borgia? Perché non ci sono più voci che le sappiano cantare? Ecco perché!» Quanto a questo, osservò il signor Bartel d'Arsy, «penso che ci siano anche al giorno d'oggi dei cantanti altrettanto bravi. E dove sono?», chiese il signor Brown un tono di sfida. «A Londra, Parigi, Milano», ribatte Bartel d'Arsy con calore. «A mio parere, per esempio, Caruso è perlomeno sul piano, se non su uno superiore, di tutti quelli che avete nominato voi». «Può darsi», disse Brown, «ma permettetemi di avere dei forti dubbi. Ah, darei qualsiasi cosa per sentire cantare Caruso», dichiarò Mary Jane. «Per me», intervenne zia Kate, che aveva appena finito di rosicchiare un osso. «Non c'era che un tenore che mi piacesse, intendo, ma ho paura che nessuno di voi l'abbia mai sentito nominare». «Che nome ha, signorina Morkan?», chiese cortesemente il signor Bartel d'Arsy. «Si chiamava Parkinson», rispose zia Kate. «Quando lo ascoltai, era nel suo momento migliore, e penso che avesse la più pura voce di tenore che mai uomo abbia avuto». «Strano», disse Bartel d'Arsy. «I suo nome mi giunge nuovo». «Sì, sì, la signorina Morkan ha ragione», disse Brown. «Ricordo di aver sentito nominare anch'io il vecchio Parkinson, ma si risale a tempi un po' troppo lontani per me». «Un bel tenore ingrese, puro, una voce dolce e melodiosa», disse zia Kate con entusiasmo. Dato che Gabriel aveva finito, l'enorme padding venne portato in tavola e il tintinnio di forchette e cucchiai ricominciò. La moglie di Gabriel versava delle cucchiaiate di padding e passava i piatti lungo la tavola. A metà strada Mary Jane li tratteneva per riempirli di gelatina di lamponi e d'arancia, di biancomangiare o di marmellata. Era stata zia Giulia a fare il padding e ne fu lodata all'unanimità. Secondo lei non era venuto abbastanza brunito. «Beh, spero, signorina Morkan», disse Brown, «di essere abbastanza bruno per voi, perché, come sapete, lo sono di nome e di fatto». Tutti gli uomini, eccetto Gabriel, mangiarono un po' di padding per riguardo a zia Giulia. Siccome Gabriel non mangiava mai dolci, gli avevano lasciato del sedano. Anche Freddy Mullins prese un gambo di sedano e lo mangiò con il padding. Gli avevano detto che era portentoso per il suo sangue e lui era proprio in cura dal medico. La signora Mullins, che era rimasta silenziosa per tutta la cena, disse che il figlio sarebbe andato a Mount Mallory di lì a una settimana o poco più. Allora tutti presero a parlare di Mount Mallory dell'aria pura che c'era e dei monaci che non chiedevano mai un centesimo per la loro ospitalità. «Non vorrete darmi a intendere», disse Brown, incredulo, «che si può andare là e installarsi come all'albergo, mangiare, bere e dormire e poi venirsele via senza sborsare un soldo». «La maggior parte della gente venendo via fa un'offerta per il monastero», precisò Mary Jane. «Vorrei che anche nella nostra chiesa ci fosse un'istituzione del genere», dichiarò il signor Brown candidamente. Rimase stupito del fatto che i monaci non parlassero, si alzassero le due del mattino e dormissero in una bara. Domandò il perché di un simile comportamento. «È la regola?» rispose Zia Kate con fermezza. «Sì, ma perché?» insistette Brown. Zia Kate ripete che era «la regola, ecco tutto». E dato che il signor Brown non sembrava aver afferrato bene il concetto, Freddy Melins gli spiegò, come meglio poteva, che a quel modo i monaci intendevano far penitenze per le colpe di tutti i peccatori del mondo. La spiegazione non fu molto chiara, perché il signor Brown fece una risetina ironica e disse «Vedea mi va molto a genio, ma un letto confortevole e molleggiato non farebbe altrettanto al caso della loro bara?» «La bara», precisò Mary Jane, «hallo scopo di ricordare loro l'inevitabile fine». Il discorso si faceva lugubre e perciò venne lasciato cadere nel silenzio generale, durante il quale si sentì la signora Melins bisbigliare al suo vicino, sottovoce in tono indistinto. Brava gente, i monaci, molto religiosi. Venivano le serviti uva passa, mandorle, fichi, mele, arance, oltre a cioccolatini e dolci, e zia Giulia invitava gli ospiti a prendere un bicchierino di Porto o di Sherry. All'inizio il signor Barter Darcy rifiutò sia l'uno che l'altro, ma il suo vicino gli diede un colpetto col gomito e gli sussurrò qualcosa all'orecchio, dopodiché si lasciò riempire il bicchiere senza protestare. Gradualmente, mentre gli ultimi bicchieri venivano riempiti, la conversazione cessò. Seguì una pausa, rotta solo dal gorgogliare del vino e dal rumore di sedie smosse. Le signorine Morca, tutte e tre, tenevano gli occhi bassi sulla tovaglia. Qualcuno tossì una volta o due, e poi alcuni uomini batterono leggermente e con garbo sulla tavola, a mo' di segnale, perché si facesse silenzio. Ottenuto il silenzio, Gabriel spinse indietro la sedia e si alzò. I colpetti sulla tovaglia aumentarono di intensità, in segno di incoraggiamento, e poi di colpo smisero. Gabriel appoggiò dieci dita tremanti sulla tovaglia e sorrise con un po' di nervosismo alla compagnia. Incontrando una fila di facce alzate verso di lui, puntò gli occhi in alto al lampadario. Il piano stava suonando un tempo di waltzer. Gli arrivava all'orecchio il fruscio delle gonne contro la porta della sala. Fuori, forse, sulla neve del lungo fiume, la gente guardava le finestre illuminate e ascoltava la musica. Era pura l'aria là fuori. A distanza si stendeva il parco, con gli alberi carichi di neve, e sul monumento di Wellington era posato uno scintillante cappuccio di neve che luccicava verso ovest, sulla bianca pianura del Fifteen e Cree. Cominciò, signore e signori, mi è toccato in sorte stasera, come in anni passati, un piacevolissimo compito, per il quale però temo che le mie scarse doti di oratore siano del tutto inadeguate. No, no, lo interruppe Brown, ma comunque sia, non posso far altro che chiedervi di apprezzare la buona intenzione e di prestarmi ascolto per qualche minuto, mentre tenterò di esprimervi, con le parole, quello che sento dentro di me in questo momento. Signore e signori, non è la prima volta che ci riuniamo sotto questo tetto ospitale e attorno a questa ospitale tavola. È la prima volta che siamo l'oggetto, o forse sarebbe meglio dire, le vittime dell'ospitalità di certe care signore di nostra conoscenza. Fece un gesto circolare in aria con il braccio e si interruppe. Tutti risero e sorrisero a zia Kate, zia Julia e Mary Jane, che si erano fatte tutte e tre di brace per il piacere. Gabriele proseguì più ardito. Sento sempre più intensamente ogni anno che passa che il nostro paese non ha tradizione che lo onori e che a sua volta debba custodire così gelosamente come quella dell'ospitalità. Tradizione unica, per quanto almeno mi è dato dire per mia esperienza personale, che non sono pochi i paesi stranieri da me visitati tra le nazioni moderne. Qualcuno potrebbe forse dirmi che si tratta più di un difetto che di qualcosa di cui vantarsi. Anche ammettendolo, è pur sempre a mio avviso un nobile difetto che mi auguro venga coltivato per molto tempo ancora tra noi. Di una cosa almeno sono certo. Fintanto che sotto questo tetto abiteranno le care signore sunnominate, e mi auguro con tutto il cuore che ciò sia per molti e molti anni ancora, la tradizione della sincera, affabile e gentile ospitalità irlandese, che ci è stata trasmessa dai nostri padri e che a nostra volta trasmetteremo ai nostri discendenti, rimarrà viva tra noi. Un caloroso mormorio di consenso circolò per la tavola. Di colpo si ricordò che la signorina Ivor non c'era, del modo scortese in cui si era congedata e riprese pieno di fiducia in se stesso. Signore e signori, una nuova generazione sta crescendo in mezzo a noi, con nuove idee e nuovi principi. È seria ed entusiasta per queste nuove idee, e il suo entusiasmo, anche quando è mal diretto, credo che sia quasi sempre sincero. Ma noi viviamo in un'epoca scettica e, se posso usare l'espressione, tormentata. E qualche volta ho paura che questa nuova generazione, educata o supereducata com'è, sia priva di quelle doti di umanità, ospitalità e di buon umore caratteristiche dei tempi andati. Ascoltando stasera i nomi di tutti quei grandi cantanti del passato, mi è sembrato, lo confesso, di vivere oggi in un'era di meno vasti orizzonti. Quei giorni potevano, senza esagerazione, essere definiti spaziosi, e, se sono passati senza possibilità di ritorno, auguriamoci almeno di parlarne ancora con orgoglio e affetto in incontri come questo, e manteniamo nel cuore il culto di quei grandi scomparsi, la cui fama il mondo non lascerà perire. Bene, bene, esclamò forte il signor Brown. Ma, continuò Gabriel, dando alla voce una inflessione più dolce, sempre in riunioni come questa, i tristi ricordi affiorano alla nostra mente. Memorie del passato, della giovinezza, dei cambiamenti, dei visi scomparsi di cui sentiamo stasera la mancanza. Il nostro cammino sulla terra è costarso di molti tristi ricordi, e se dovessimo indugiarvi sempre, non troveremmo il coraggio di continuare come si deve la nostra opera tra i vivi. Abbiamo tutti dei doveri e degli affetti terreni che reclamano, e ha ragione, i nostri più strenui sforzi. Perciò non mi soffermerò sul passato, e non lascerò che malinconiche considerazioni moralistiche si insinuino tra noi stasera. Siamo qui riuniti per un breve momento, lontano dal trambusto e dagli affanni della vita quotidiana. Ci siamo incontrati da amici, nello spirito di una sincera amicizia, da colleghi anche, in un certo senso, nel vero spirito di cameratismo, e come ospiti delle, come potrei chiamarle, delle tre grazie del mondo musicale di Dublino. A questa allusione tutti scoppiarono a ridere ed applaudirono. Inutilmente zia Julia chiedeva a turno ai suoi vicini di ripetere quello che Gabriel aveva detto. Dice che siamo le tre grazie, zia Julia, le spiegò Mary Jane. Zia Julia non capì, ma alzò gli occhi sorridendo su Gabriel che continuò sullo stesso tono. Non proverò a recitare stasera la parte che sostenne Paride in altra occasione, ne oserò scegliere tra loro. Sarebbe un compito troppo arduo e superiore le mie povere forze. Quando le guardo, sia che si tratti della principale padrona di casa, il cui buon cuore, troppo buono, è diventato proverbiale fra tutti coloro che la conoscono, o di sua sorella, che sembra avere il dono dell'eterna giovinezza, e le cui doti canore sono certamente state una sorpresa e una rivelazione per tutti noi stasera, o l'ultima, ma non da meno, se considero la più giovane ospite, intelligente, allegra, laboriosa e la migliore delle nipoti, vi confesso, signore e signori, che non so proprio a chi dare la palma. Gabriel abbassò lo sguardo sulle zie, e scorgendo un largo sorriso sul viso di zia Julia e delle lacrime negli occhi di zia Kate, si affrettò a concludere. Alzò cavallerescamente il suo bicchiere di porto, mentre tutti gli altri aspettavano quel bicchiere in mano, e disse ad alta voce, brindiamo dunque a tutte e tre insieme, beviamo alla loro salute, benessere, lunga vita, felicità, prosperità, e affinché per molti anni ancora possano continuare a mantenere con orgoglio il posto conquistato nella professione, oltre a quello di onore e di affetto che tengono nei nostri cuori. Tutti gli invitati si alzarono in piedi, il bicchiere in mano, e si girarono verso le tre signore, che erano rimaste sedute, cantando in coro sotto la direzione del signor Brown, poiché sono bravi ragazzi, poiché sono bravi ragazzi, poiché sono bravi ragazzi, il che nessuno potrà negar. Zia Kate faceva apertamente uso del fazzoletto, e anche zia Giulia aveva l'aria commossa. Freddy Melins batteva il tempo con la forchetta del padding, e tutti si giravano l'uno verso l'altro, quasi in melodioso conversare, mentre cantavano con enfasi, a meno che gli menta, a meno che gli menta. Poi, volgendosi di nuovo verso il padrone di casa, ripreso il ritornello. Poiché sono bravi ragazzi, poiché sono bravi ragazzi, poiché sono bravi ragazzi, il che nessuno potrà negar. L'acclamazione che seguì venne ripetuta varie volte dietro la porta della sala da molti altri ospiti, mentre Freddy Melins continuava a fare da direttore d'orchestra con la forchetta alzata. L'aria pungente del mattino entrava nell'anticamera dove si erano raggruppati, tanto che zia Kate disse, qualcuno chiude la porta per piacere, altrimenti la signora Melins si bruscherà un malanno. C'è Brown di fuori, zia Kate, fece notare Mary Jane. Quel Brown è sempre e dappertutto, commentò zia Kate abbassando la voce. Mary Jane rise del suo tono. Certo, disse maliziosamente, è molto assiduo. Ti si appiccica alle costole e non c'è modo di toglierselo di torno, finché durano le feste, riprese zia Kate nello stesso tono. Questa volta rise anche lei, di buon umore, e poi aggiunse in fretta. Beh, ma digli di venire dentro, Mary Jane, e chiudi la porta. Speriamo che non mi abbia sentito. In quel momento la porta si spalancò, e Brown rientrò, ridendo a creppapelle. Indossava un lungo pastrano verde, con gli risvolti dei polsi e il collo di finto astracan, e aveva in testa un berretto ovale, pure di pelo. Indicò il lungo fiume, tutto coperto di neve, da dove arrivava il suono di un acuto e prolungato fischio. Teddy richiamerà tutte le carrozze di Dublino, disse. Gabriel venne avanti dallo sgabuzzino dietro la dispensa, infilandosi a fatica il soprabito, e guardandosi intorno chiese, ma Greta non è ancora scesa? Si sta preparando, Gabriel, rispose zia Kate. Chi è che suona di sopra? chiese Gabriel. Nessuno, se ne sono andati tutti. No, zia Kate, intervenne Mary Jane, Bartell Darcy e la signorina O'Callaghan, non se ne sono ancora andati. Comunque c'è qualcuno che strempella, ripete Gabriel. Mary Jane lanciò un'occhiata sia a Gabriel che al signor Brown, e dissera brividendo. Mi viene freddo a vedervi così imbaccuccati. Non mi piacerebbe essere nei vostri panni e dover affrontare la strada per tornare a casa a quest'ora. Niente mi piacerebbe di più in questo momento, interloqui Brown, che fare una bella passeggiata in campagna o una corsa veloce in carrozza, con un bel cavallino focoso tra le stanghe. A casa nostra avevamo un buon cavallo e una carrozza, disse zia Julia tristemente. L'indimenticabile Johnny, precisò Mary Jane ridendo. Anche zia Kate e Gabriel si misero a ridere. «Che cosa aveva di speciale questo Johnny?» chiese il signor Brown. «Il compianto Patrick Morkhan, già nostro nonno», spiegò Gabriel, comunemente noto negli ultimi anni della sua vita come il vecchio signore. «Era un fabbricante di colla». «Ma veramente, Gabriel?» interloquizia Kate ridendo. «Si trattava di amido». «Beh, colla o amido che fosse», riprese Gabriel, «il vecchio signore aveva un cavallo di nome Johnny, e Johnny lavorava al mulino, girando intorno per farlo andare. Fin qui tutto bene, ma ora viene il dramma». Un bel giorno il vecchio signore pensò che gli sarebbe piaciuto uscirsene in carrozza davvero gentiluomo per assistere a una rivista militare nel parco. «Dio abbia misericordia della sua anima», commentò zia Kate, compassionevole. «Amen», completò Gabriel. Così il vecchio signore, come dicevo, bardò Johnny, si mise il cilindro e il colletto duro migliori, poi uscì in pumpamagna dalla magione a vita che, se non sbaglio, era dalle parti di Black Lane. Tutti scoppiarono a ridere, perfino la signora Mullins, del tono di Gabriel, e zia Kate disse «Scusa, sai, Gabriel, non abitava a Black Lane. C'era solo il mulino là». Lasciata dunque la casa dei suoi padri, se ne partì con Johnny. Tutto andò a meraviglia, finché Johnny arrivò davanti alla statua di Rabilli, e là, o che si sia innamorato del cavallo sul quale stava in sella Rabilli, o che abbia creduto di essere ritornato al mulino, sta di fatto che cominciò a girare attorno alla statua. Gabriel, con le sue soprascarpe, descrisse a passettini un cerchio attorno all'anticamera tra l'ilarità degli altri. Continuava a girare in tondo, continuò Gabriel, e il vecchio gentiluomo, che ci teneva molto alla sua dignità, era molto indignato. «Va avanti, che ti succede, Johnny? Johnny? Che comportamento bizzarro. Non lo si conosce mai abbastanza, il cavallo!» Lo scoppio di risa, che seguì all'imitazione di Gabriel dell'incidente, fu interrotto da un violento bussare alla porta d'ingresso. Merigen si precipitò ad aprire e introdusse Freddy Melins, che col cappello ben calzato sulla nuca e le spalle curve per il freddo, sbuffava e ansimava per le fatiche fatte. «Non sono riuscito a trovare una carrozza», dichiarò. «Beh, noi ne troveremo un'altra sul lungo fiume», disse Gabriel. «Sì», intervenne zia Kate. «È meglio non tenere qui la signora Melins, in mezzo alla corrente». La signora Melins venne aiutata a scendere i gradini dal suo figlio e da Brown, e dopo molte manovre fu issata in carrozza. Freddy Melins salì su dopo di lei, e perse moltissimo tempo a sistemarla, mentre il signor Brown lo aiutava con dei consigli. Finalmente, quando la signora fu ben sistemata, Freddy Melins invitò Brown a salire anche lui. Tra complimenti e altro, spercarono un bel po' di tempo in chiacchiere, finché Brown salì a sua volta. Il vetturino si avvolse la coperta attorno alle gambe e si chinò per chiedere l'indirizzo. Si creò ancora più confusione di prima, perché Freddy Melins e Brown, ciascuno dei quali aveva messo la testa fuori da un finestrino, davano indicazioni diverse. La difficoltà era di stabilire in quale punto della strada far scendere Brown, e zia Kate, zia Giulia e Mary Jane partecipavano alla discussione dalla soglia di casa, indicando vie traverse, contraddicendo e facendosi un sacco di risate. Freddy Melins non poteva nemmeno più parlare del gran ridere. Non faceva che ficcare dentro e fuori la testa del finestrino ogni minuto, con grave rischio per il suo cappello, e riferire a sua madre gli sviluppi della discussione. Finalmente Brown gridò al vetturino sbalordito, dominando il frastuono delle risate. — Sapete dov'è il Trinity College? — Sì, signore, asserì il cocchiere. — Bene, andate senz'altro fino ai cancelli del Trinity College, riprese Brown. E là vi diremo che direzione prendere, chiaro? — Perfettamente, signore. — Di carriera al Trinity College, dunque. — Bene, signore. Il vetturino fece schioccare la frusta, e la carrozza si avviò con gran fracasso per il lungo fiume, tra un coro di risate e di saluti. Gabriel non era uscito sulla porta con gli altri. Se ne stava in una zona buia dell'anticamera, con gli occhi rivolti alle scale. C'era una donna lassù, in cima alla prima rampa, in ombra anche lei. Non riusciva a vederne il viso, ma vedeva le strisce verticali rosa, salmone e mattone, che l'ombra faceva sembrare bianche e nere. Era sua moglie. Si appoggiava alla balaustra e ascoltava qualcosa. Fu sorpreso di quella immobilità, e a sua volta tese l'orecchio in ascolto. Ma poteva dire ben poco, oltre al rumore delle risate e della discussione sulla porta. Alcuni accordi del pianoforte e poche note di una voce d'uomo che cantava. Indugiò ancora nella penombra dell'anticamera, cercando di afferrare il motivo della canzone e guardando sua moglie. C'era grazia e mistero nel suo atteggiamento, come se fosse simbolo di qualcosa. Si chiese di che cosa potesse mai essere simbolo una donna in piedi sulle scale, nell'ombra, in ascolto di una musica lontana. Se fosse stato un pittore, l'avrebbe ritratta in quell'atteggiamento. Il cappello di feltro turchino avrebbe dato risalto ai suoi capelli, colore del bronzo, sullo sfondo buio, e le strisce scure della sua gonna avrebbero fatto spiccare quelle chiare. Musica lontana avrebbe intitolato il quadro, se fosse stato pittore. La porta d'ingresso si chiuse e zia Kate, zia Julia e Mary Jane rientrarono sempre ridendo. È proprio tremendo quel Freddy, osservò Mary Jane. Davvero tremendo. Gabriel non disse niente, ma indicò la scala verso il punto dove stava la moglie. Ora che la porta era stata chiusa si potevano sentire più distintamente sia la voce che il piano. Gabriel fece segno con la mano alle zie e a Mary Jane di tacere. Sembrava una canzone di vecchio stile irlandese, e il cantante non sembrava molto sicuro né delle parole né della sua voce. Una voce che, resa lamentosa dalla distanza e dalla raucedine del cantante, illuminava debolmente il motivo con espressioni di dolore. «Oh, la pioggia cade sulla mia chioma greve, e la rugiata bagna il mio corpo, e il mio bambino giace freddo!» «Oh!» esclama Mary Jane. «È Bartelvers sì che canta, e pensare che non ha voluto farlo tutta la sera!» «Gli farò cantare qualcosa, prima che se ne vada!» «Sì, sì, chiediglielo, Mary Jane!» fece zia Kate. Mary Jane passò davanti agli altri e corse verso le scale. Ma prima che avesse potuto raggiungerle, il canto si interruppe, e si sentì il secco rinchiudersi del piano. «Che peccato!» fece ad alta voce Mary Jane. «Sta scendendo, Greta!» Gabriel sentì la risposta affermativa di sua moglie, e la vide scendere verso di loro. Pochi passi più indietro venivano Darcy e la signorina O'Callaghan. «Oh, signor Darcy!» gridò Mary Jane. «È stata proprio una cattiveria quella di troncare così bruscamente, mentre vi stavamo ad ascoltare in estasi. Ho insistito tutta la sera, intervenne la signorina O'Callaghan e anche la signora Conroy, ma ci ha detto di avere un fortissimo raffreddore e di non poter cantare. Signor Darcy, interloquizia Kate, ci avete proprio dato davvero una glossa bugia?» «Ma non sentite che sono rauco come una cornacchia», disse sgarbatamente Darcy. Si diresse in fretta verso lo sgabuzzino e si infilò il soprabito. Gli altri, annichiliti di fronte a una reazione così scortese, non riuscivano ad articolare parola. Zia Kate corrugò la fronte e fece segno agli altri di lasciar stare. Darcy si stava avvolgendo accuratamente una sciarpa intorno al collo e aveva un'aria torva. «Dipende dal tempo», disse zia Julia dopo una pausa. «Già, c'erano tutti il raffreddore», aggiunse pronta zia Kate. «Proprio tutti. Dicono, dichiarò Mary Jane, che da trent'anni non si vedeva tanta neve. Ho letto stamattina sul giornale che nevica in tutta l'Irlanda». «Mi piace la neve», disse zia Julia con tristezza. «Anche a me», dice la signorina O'Callaghan. «Natale non sembra nemmeno Natale, se non c'è la neve. Forse il signor Darcy non la penserà come noi», commentò zia Kate, sorridendo. Darcy, tutto imbaccucato e avvolto nel cappotto, in tono pentito, raccontò la storia del suo raffreddore. Gli diedero tutti il loro consiglio. Dissero che era un vero peccato e gli raccomandarono di avere cura della sua gola e di riguardarsi dall'aria della notte. Gabriel osservava la moglie, che non partecipava alla conversazione. Stava in piedi sotto il lucernario polveroso e la fiamma del gas le accendeva il ricco bronzo dei capelli, che le aveva visto far asciugare al fuoco pochi giorni prima. Era nello stesso atteggiamento e sembrava ignorare i discorsi che si facevano intorno a lei. Alla fine si girò verso di loro e Gabriel vide che aveva le guance arrossate e che gli occhi le brillavano. Un improvviso balzo di gioia gli si sprigionò al cuore. Signor Darcy, e la chiese, qual è il titolo della canzone che cantavate? La ragazza di Ogrim, rispose Darcy, ma non me lo ricordo proprio esattamente. Perché? La conoscete? La ragazza di Ogrim? Le ripete. Non riuscivo a ricordarne il nome. È un motivo molto grazioso, osservò Mary Jane. Peccato che non eravate in forma con la voce questa sera. Su, Mary Jane, intervenne zia Kate, non annoiare il signor Darcy. Non vorrei proprio che si fosse annoiato. Visto che tutti erano pronti ad andarsene, li diresse verso la porta dove si scambiarono la buonanotte. Notte, zia Kate, e grazie della bella serata. Buonanotte, Gabriel. Buonanotte, Greta. Buonanotte, zia Kate, e ancora grazie. Buonanotte, zia Julia. Buonanotte, Greta. Non ti avevo visto. Buonanotte, signor Darcy. Buonanotte, signorino Callaghan. Buonanotte, signorina Morca. Buonanotte. Buonanotte a tutti e buon viaggio. Buonanotte, buonanotte. Era ancora buio. Una luce opaca e giallastra sostava sulle case e sul fiume. Il cielo sembrava incombere su di loro. La neve si scioglieva sotto i piedi e ne restavano solo delle chiazze e delle strisce sui tetti, sui parapetti e sulle inferriate. Le lampade bruciavano ancora, rossastre, nell'oscurità, e al di là del fiume il palazzo di giustizia si alzava milaccioso contro il cielo plumbeo. Greta gli camminava davanti insieme a Bartel Darcy. Portava sotto il braccio le scarpette da ballo avvolte in un foglio di carta marrone e con le mani teneva rialzata da terra la gonna perché non si infangasse. Non aveva più nessuna grazia nell'atteggiamento, ma gli occhi di Gabriel brillavano ancora di felicità. Il sangue gli scorreva rapido nelle vene e pensieri audaci, allegri, teneri e orgogliosi gli si affacciavano alla mente. Gli camminava davanti leggera e dritta, tanto che sentiva il desiderio di correre dietro, senza far rumore, afferrarla per le spalle e sussurrarle qualche sciocchezza affettuosa all'orecchio. Gli sembrava così fragile che avrebbe voluto difenderla. Non sapeva nemmeno lui da cosa e poi restare solo con lei. I stanti della loro vita segreta gli brillavano come stelle nella memoria. Una busta color eliotropio era stata sistemata vicino alla tazzina della colazione e lui la carezzava con la mano. Fuori gli uccelli cinguettavano in mezzo all'edera e la trama della tendina illuminata da un raggio di sole rifletteva sul pavimento una luminosa striscia tremula. Non riusciva a mangiare, tanto era felice. Stavano insieme sulla piattaforma affollata e lui le infilava il biglietto nel palmo caldo sotto il guanto. E ancora erano insieme nel freddo e guardavano attraverso una grata un uomo che soffiava delle bottiglie in una fornace ruggente. Era una giornata gelida. Il viso di lei, fragrante nell'aria fredda, era vicinissimo al suo e ricordava di aver gridato di colpo all'uomo della fornace. Ehi, è caldo il fuoco! Ma quello non poteva sentire per via del rumore. Dopotutto era un bene, avrebbe anche potuto rispondergli male. Un'ondata di gioia ancora più tenera gli si sprigionò dal cuore e si mise a scorrergli per le vene sotto forma di sangue caldo. Uguali alle fiammelle delle stelle, momenti della loro vita comune che nessuno conosceva o avrebbe mai conosciuto, gli illuminarono la mente come sprazzi di luce. Si struggeva dal desiderio di ricordarle quei momenti, di farle dimenticare gli anni della vita piatta di tutti i giorni e farle ricordare solo i momenti di estasi. Perché gli anni, lo sentiva, non avevano ucciso l'anima né in lui né in lei. I figli, il suo lavoro al giornale e per Greta i problemi della casa non avevano spento il tenero fuoco delle loro anime. In una lettera che le aveva scritto in quel tempo, le aveva detto «Perché mai parole come queste mi sembrano così inefficaci e fredde? Forse perché non c'è nome e suoni abbastanza dolce per essere il tuo». Come musica lontana, queste parole che aveva scritto tanti anni prima gli rinascevano dal passato. Voleva rimanere solo con lei. Quando gli altri se ne fossero andati, quando fossero stati nella camera dell'albergo, finalmente sarebbero stati soli, loro due insieme. L'avrebbe chiamata piano. «Gretta!» Forse non l'avrebbe sentito subito, intenta a spogliarsi. Poi qualcosa del tono della sua voce l'avrebbe scossa. Si sarebbe girata e lo avrebbe guardato. All'angolo della Vine Tavern Street trovarono una carrozza. Fu contento del rumore che faceva perché si sentì libero dall'obbligo di conversare. Lei guardava fuori dal finestrino e sembrava stanca. Anche gli altri parlavano poco. Solo poche parole per indicare qualche edificio o una strada. Il cavallo trotterellava stanco sotto il cielo buio del mattino, tirandosi dietro la sua vecchia carrozza. E Gabriel di nuovo si ritrovava in carrozza con lei, col cavallo lanciato al galoppo per arrivare in tempo al battello. Al galoppo versò la loro luna di miele. Mentre la carrozza passava sull'Oconnell Bridge, la signora O'Callaghan disse. Sembra che non si possa attraversare questo ponte senza vedere un cavallo bianco. Questa volta vedo un uomo bianco, disse Gabriel. Dov'è? chiese Bartender sì. Gabriel indicò la statua chiazzata di neve. Poi le fece familiarmente un cenno con la testa e agitò la mano in segno di saluto. Buonanotte Dan, disse allegramente. Quando la carrozza si fermò davanti all'albergo, Gabriel salto giù e nonostante le proteste di Bartender sì, pagò il vetturino, lasciandogli un oscellino di mancia. Quello salutò e disse. Felice anno, signore. Altrettanto a voi, ricambiò Gabriel cortialmente. Lei gli si appoggiò un momento al brazzo per scendere dalla vettura e anche, mentre ferma sul marsapiede, augurava la buonanotte agli altri. Gli si appoggiava leggermente al braccio, come poche ore prima, quando aveva ballato con lui. In quel momento si era sentito orgoglioso e felice. Felice che fosse sua, orgoglioso della sua grazia e della sua femminilità. Ma adesso, con tutti i ricordi che si erano riaccesi in lui, il primo contatto col suo corpo armonioso, strano e profumato, gli faceva provare un forte stimolo di lussuria. Protetto dal silenzio di lei, le prese una mano, stringendosela forte contro il fianco, e quando si trovarono di fronte alla porta dell'albergo, sentì che erano fuggiti dalla vita e dai doveri quotidiani, fuggiti da casa e dagli amici, per correre insieme, con i cuori spensierati e raggianti, verso una nuova avventura. Un vecchio era pisolato su un'enorme poltrona, nell'atrio. Accese una candela in dispensa, e fece loro strada su per le scale. Lo seguivano in silenzio, il rumore dei passi attutito dai folti tappeti. Lei saliva dietro al portiere, con la testa china, esili spalle curve come sotto un peso e la gonna stretta intorno alle gambe. Avrebbe potuto cingerle i fianchi con le braccia e stringerle ancora, perché le sue braccia tremavano di desiderio, e soltanto conficcandosi le unghie nel palmo delle mani, riusciva a controllare l'impeto selvaggio del suo corpo. Il portiere si fermò sulle scale per sistemare meglio la candela che smoccolava, e anche loro si fermarono sui gradini dietro a lui. Nel silenzio, Gabriel poteva sentire le gocce di cera a cadere sul piattello e i battiti del cuore nel petto. Il portiere li guidò lungo un corridoio e aprì una porta, poi appoggiò la candela traballante sulla toletta e chiese a che ora desiderassero essere svegliati. Alle otto, rispose Gabriel. Il portiere indicò l'interruttore della luce elettrica e cominciò a scusarsi, balbettando qualcosa, ma Gabriel tagliò corto. Non ci serve nessuna luce, ne arriva abbastanza dalla strada. Anzi, aggiunse puntando il dito sulla candela, portatevi via quel bello arnese, su, da bravo. Il portiere si riprese la candela con gesto lento, perché era rimasto stupito da un'idea tanto strampalata. Poi augurò borbottando la buonanotte e se ne andò. Gabriel fece scattare la serratura dall'interno, la luce spettrale di un lampione, dalla finestra, si allungava in una striscia fino alla porta. Gabriel gettò sopravvito e cappello su un divano e attraversò la stanza dirigendosi verso la finestra. Guardava in strada per riprendersi un po' dall'emozione. Poi si girò e si appoggiò al cassettone, volgendo le spalle alla luce. Anche lei si era tolta cappello e mantello e in piedi davanti a una grande specchiera stava slacciandosi il corpetto. Gabriel rimase zitto per alcuni istanti, osservandola. Poi le disse «Gretta!». Lentamente lei si allontanò dallo specchio e si diresse verso di lui, lungo la fascia di luce. Aveva un'aria così seria e affaticata che Gabriel non riuscì a dire parola. «No, non era ancora il momento. È l'aria stanca», le disse. «Un po' lo sono», rispose lei. «Ma non ti senti mica male, vero? No, è solo stanchezza, nient'altro». Si avvicinò alla finestra e rimase là a guardare fuori. Gabriel aspettò ancora e poi, temendo che la timidezza lo sopraffacesse, disse improvvisamente. «A proposito, Gretta, cosa c'è? Lo conosci quel poveraccio di Malins?» disse in fretta. «Beh, che c'è?» «Poveraccio, è un buon diavolo in fondo», continuò Gabriel con una nota falsa nella voce. «Mi ha restituito quella sterlina che gli avevo prestato e, a dire la verità, non me l'aspettavo. È un vero peccato che non sappia stare alla larga da quel brown, perché non è davvero cattivo. Ora stava tremando per la tensione. Perché lei aveva quell'aria così distratta? Non sapeva come cominciare. Forse anche lei era tormentata da qualcosa. Se solo si fosse rivolta a lui e gli fosse venuta vicino spontaneamente. Prenderla così sarebbe stato brutale. No, doveva prima vedere un po' di ardore nei suoi occhi. Voleva averla vinta su quel suo strano umore. «Quando gli hai prestato quella sterlina?» gli chiese lei dopo una pausa. Gabriel fece uno sforzo su se stesso per trattenersi dall'esplodere in una serie di parolacce contro quell'ubriacone di Malins e la sua sterlina. Sentiva il bisogno di gridarle qualcosa dal profondo dell'anima, di stringere al suo il corpo di lei, di dominarla. Invece disse «Oh, a Natale, quando aprì quel negozietto di cartoleria in Harry Street». Gli sentiva la febbre addosso, una febbre di rabbia e di desiderio, tanto che non la sentì avvicinarsi alla finestra. Se ne stette dritte per un attimo davanti a lui, guardandolo stranamente. Poi d'improvviso, alzandosi sulla punta dei piedi e appoggiandogli delicatamente le mani sulle spalle, lo baciò. «Sai molto generoso, Gabriel», gli disse. Gabriel, tremante di gioia per il suo improvviso bacio e per la stranezza della frase, le posò le mani sui capelli e cominciò ad accarezzarli all'indietro, toccandoli appena con le dita. Averli lavati da poco li aveva resi morbidi e lucenti. Il cuore gli traboccava di felicità. Proprio nel momento in cui più lo desiderava, lei era venuta da lui spontaneamente. Forse i suoi pensieri avevano seguito lo stesso corso, forse lei aveva sentito il suo impetuoso desiderio e poi si era fatta arrendevole. Adesso che era venuta da lui con tanta facilità, si chiedeva perché si fosse sentito così sfiduciato. Rimase immobile tenendole la testa fra le mani. Poi, passatole rapido un braccio intorno alla vita, la tirò a sé e le disse con tenerezza. «Gretta, cara, a che cose pensi?» Non gli rispose né si abbandonò completamente all'abbraccio. Le ripete ancora dolcemente «Dimmi che c'è, Gretta. Credo di indovinare di che cosa si tratta, no?» Non gli rispose subito. Poi, scoppiando in lacrime, disse «Sto pensando a quella canzone, la ragazza di Ogrim. Si sciolse dalla stretta, corse verso il letto e, gettando le braccia sulla spalliera, nascose il viso. Gabriel, per lo stupore, rimase come impietrito per un istante e poi la seguì. Passando davanti alla specchiera, vi sorprese la propria immagine riflessa per intero, il davanti della sua ampia camicia ben steso sopra il petto, il viso, la cui espressione lo metteva sempre in imbarazzo quando si guardava allo specchio, e il luccichio degli occhiali dalla montatura dorata. Si fermò a pochi passi da lei e le disse «E che cosa c'è in quella canzone? Perché ti fa piangere?» Sollevò la testa dalle braccia e si asciugò gli occhi col dorso della mano come una bambina. La voce di Gabriel prese un tono più gentile di quanto effettivamente fosse nelle sue intenzioni, mentre le chiedeva «Perché, Greta?» Mi ricordo una persona che la cantava tanto tempo fa. «E chi era quella persona?» chiese Gabriel sorridendo. «Una persona che avevo conosciuta dalla nonna quando stava a Galway». Rispose. Il sorriso sparì dal viso di Gabriel. Una sorda collera cominciò ad accumularsi di nuovo in fondo alla sua mente, e un sordo ardore di lussuria riprese a bruciargli, rabbioso nelle vene. «Qualcuno di cui era innamorata, naturalmente?» chiese ironico. «Era un giovinetto, quando lo conobbi», rispose lei. «Si chiamava Michael Furi. Cantava spesso quella canzone. La ragazza di Ogrim. Era molto delicato». Gabriel taceva. Non voleva che lei pensasse che il ragazzo delicato lo interessasse. «Mi sembra ancora di vederlo», rispose Greta dopo un momento. «Con quegli occhi grandi, scuri. E che espressione avevano!» «Che espressione!» «Ne sei proprio innamorata, eh?» disse Gabriel. «Facevamo spesso delle passeggiate insieme, preciso lei, quando era a Galway. Un pensiero attraverso la mente di Gabriel. Forse è per questo che volevi andare a Galway con quella Ivor?» chiese freddamente. Lo guardò con stupore. «E perché?» I suoi occhi gli diedero un senso di disagio. Si strinse nelle spalle. «Che ne so io?» «Forse per vederlo». Distorse gli occhi da lui, e in silenzio li rivolse verso la finestra, lungo la striscia luminosa. «È morto», disse dopo un bel po. «È morto a soli diciassette anni. Non è terribile morire così giovani?» «Ci cosa faceva?» chiese Gabriel, ancora ironicamente. «Era impiegato presso l'azienda del gas», rispose lei. Gabriel si sentì umiliato, della cattiva riuscita della sua ironia, e per aver evocato lo spirito di quel ragazzo morto, un ragazzo impiegato presso l'azienda del gas. Mentre lui era tutto preso dal ricordo della loro vita intima, pieno di tenerezza, di gioia e di desiderio, lei nella sua mente lo aveva paragonato a un altro. La coscienza di ciò che lui era in realtà lo assalì, e ne sentì vergogna. Si vide come un individuo ridicolo, che faceva da galoppino alle zie, un nervoso, benintenzionato, sentimentale, che faceva discorsi alla plebaglia e che idealizzava i propri bassi istinti, quell'essere fatuo e miserevole che aveva intravisto nello specchio. Istintivamente girò ancora di più le spalle alla luce, per paura che lei potesse accorgersi della vergogna che gli bruciava la fronte. Si sforzò di sostenere il suo tono di fredda interrogazione, ma la sua voce quando parlò era umile e indifferente. Penso che ne fossi innamorata di questo Michael Furey, Greta, disse. Stavamo molto insieme allora, osservò lei. La sua voce era velata e triste. Gabriel, sentendo quanto inutile sarebbe stato ormai cercare di portarla dove si era riproposto, le accarezzò la mano e disse, anche lui con tristezza, «E di che cosa è morto, così giovane, Greta? Tubercolosi?» «Credo sia morto per me», rispose Greta. Un vago terrore prese Gabriel a questa risposta, come se in quell'ora, nella quale aveva sperato di trionfare, un implacabile e vendicativo essere gli si scagliasse contro, raccogliendo forze sconosciute contro di lui nel suo mondo non ben definito. Ma con uno sforzo se ne liberò e continuò ad accarezzarle la mano. Non le chiese altro perché sentiva che lei stessa gli avrebbe detto tutto. La sua mano era calda e umida, non rispondeva al suo tocco. Pure continuò ad accarezzarla, proprio come aveva accarezzato la prima lettera di lei quella mattina di primavera. «Era inverno», disse, anzi, principio dell'inverno, e stavo per lasciare la casa della nonna per venire qui in collegio. Lui si era ammalato in quei giorni, lì a Galway, e non poteva uscire, tanto che a Outerard i suoi genitori erano stati avvertiti. «Era alla fine», dicevano, «o qualcosa del genere». «Non l'ho mai saputo con precisione». Si interruppe per un attimo e sospirò. «Poverino», riprese. «Mi voleva tanto bene ed era un così caro ragazzo. Facevamo spesso delle passeggiate insieme, tu sai, Gabriel, come si fa in campagna. Avrebbe studiato canto, se la scarsa salute non glielo avesse impedito. Aveva veramente una bella voce, povero Michael Fury. Beh, e poi?» fece Gabriel. «Poi, quando arrivò per me il momento di lasciare Galway per andare in collegio, era molto peggiorato, tanto che non mi consentirono di vederlo. Allora gli scrisse una lettera dicendogli che andavo a Dublino e che sarei tornato in estate. Speravo allora di trovarlo migliorato». Si fermò ancora un momento per dominare la voce, poi continuò. «La notte prima che partissi ero in casa della nonna a Nance Island e stavo facendo le valigie, quando sentì un rumore di sassolini contro la finestra. Ma i vetri erano tanto bagnati che non mi fu possibile vedere niente. Allora, così com'ero, corsi giù per le scale e dalla porta posteriore sgattaiolai in giardino. Proprio là, in fondo, trovai quel povero ragazzo, scosso dai brividi». «E non gli dicesti di andarsene via?» chiese Gabriel. «Lo scongiurai di tornarsene a casa subito, e gli dissi che sarebbe morto se fosse rimasto lì, sotto quella pioggia». Ma mi rispose che non ci teneva a vivere. Me li rivedo ancora davanti, i suoi occhi, come fosse adesso. Era in piedi, in fondo al muro, vicino a un albero. «E tornò a casa?» chiese Gabriel. «Sì, se ne andò. Ma era passata appena una settimana da quando ero entrata in collegio che morì e fu sepolto a Otergard, il paese dei suoi. Ah, il giorno che lo seppi, che seppi che era morto». Si interruppe, scossa dai singhiozzi, e sopraffatta dall'emozione, si buttò a faccia in giù sul letto, mettendosi a singhiozzare sulla coperta. Gabriel le tenne la mano un po' più a lungo, indeciso, e poi, non volendo intromettersi nel suo dolore, la lasciò ricadere pian piano e si diresse lentamente alla finestra. Si era profondamente addormentata. Gabriel, appoggiato sul gomito, la guardò per alcuni istanti, senza rancore, i capelli scomposti e la bocca semiaperta, ascoltandone il profondo respiro. Dunque c'era un romanzo nella sua vita. Un uomo era morto per lei. Sentiva un'acuta sensazione di pena ora, pensando alla misera parte che lui, il marito, aveva avuto nella sua vita. La osservava mentre dormiva, come se non avessero mai vissuto insieme da uomo e donna. I suoi occhi curiosi indugiarono a lungo sul suo viso e sui suoi capelli, e mentre pensava a quella che doveva essere stata allora, al tempo della sua bellezza di fanciulla, una strana, benevola pietà per lei, gli penetrò nell'anima. Non voleva ammettere neppure con se stesso che il suo viso non era più bello, ma sapeva che non era il viso per il quale Michael Furey aveva sfidato la morte. Forse non gli aveva raccontato tutto. Posò gli occhi sulla sedia su cui lei aveva gettato alcuni indumenti. Un laccio della sottana pendeva sul pavimento. Uno stivaletto, la cui parte alta era afflosciata, stava dritto, e il compagno gli giaceva di fianco. Si meravigliò della sua eccitazione di prima. Da dove era nata? Dalla cena delle zie, dal suo sciocco discorso, dal vino, dal ballare, dal festoso scambiarsi la buonanotte nell'atrio, e dal piacere della passeggiata lungo il fiume sulla neve. Povera zia Julia, anche lei presto sarebbe stata un'ombra, come Patrick Morgan e il suo cavallo. Glielo aveva letto in faccia per un momento, quando cantava Ornata per le nozze. Presto, forse, si sarebbe trovato seduto nello stesso salotto, vestito di nero col cilindro sulle ginocchia. Le imposte sarebbero state socchiuse, e zia Kate, seduta vicino a lui, piangendo e soffiandosi il naso, gli avrebbe raccontato come Julia era morta. Si sarebbe spremuto alle meningi per trovare qualche parola che potesse consolarla, e ne avrebbe trovato solo di banali e inutili. Sì, sarebbe successo molto presto. L'aria della stanza gli faceva sentire freddo alle spalle. Si lasciò scivolare pian piano sotto il lenzuolo, e si colicò vicino alla moglie. A uno a uno sarebbero diventati tutti delle ombre. Meglio passare a miglior vita baldanzosamente, nel piano splendore di qualche passione, piuttosto che appassire e spegnersi lentamente di vecchiaia. Pensava a come colei che gli giaceva accanto, avesse per tanti anni custodito gelosamente nel cuore, l'immagine degli occhi del suo innamorato, quando le aveva detto che non desiderava vivere. Lacrime generose riempirono gli occhi di Gabriel. Lui non lo aveva mai provato per nessuna donna, ma sapeva che un sentimento simile doveva essere amore. Le lacrime gli salirono più abbondanti agli occhi, e nella semioscurità immaginò di vedere la sagoma di un giovanetto in piedi, sotto un albero gocciolante. Altre figure gli erano vicino. La sua anima si era avvicinata a quella regione dove abita l'immensa schiera dei morti. Era consapevole della loro esistenza aerea e incorporea, ma non poteva afferrarla. La sua stessa identità svaniva in un grigio mondo impalpabile. Lo stesso solido mondo, in cui questi morti avevano operato e vissuto, si dissolveva e svaniva. Un leggero picchiare sui vetri lo fece girare verso la finestra. Aveva ricominciato a nevicare. Osservò assonnato i fiocchi, argenti e scuri, cadere obliquamente contro il lampione. Era tempo per lui di mettersi in viaggio verso Occidente. Sì, i giornali avevano ragione. Nevicava in tutta l'Irlanda. La neve cadeva su ogni punto dell'oscura pianura centrale, sulle colline senza alberi. Cadeva lenta sulla palude di Allen e, più ad ovest, sulle onde scure tumultuose dello Shannon. Cadeva anche sopra ogni punto del solitario cimitero sulla collina, dove era sepolto Michael Furei. Si ammucchiava fitta sulle croci contorte e sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. La sua anima si dissolse lentamente nel sonno, mentre ascoltava la neve cadere lieve su tutto l'universo, come la discesa della loro ultima fine, su tutti i vivi e su tutti i morti.